In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi, Amen. Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis, Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, oggi parliamo dell'altare cristiano nella storia e ci occupiamo del primo millennio di storia cristiana. C'è una data importante da ricordare ed è il 313, la data dell'editto di Milano con cui l'imperatore Costantino concedeva piena libertà alla religione cristiana. Ma prima di allora il cristianesimo è stato duramente perseguitato. Era ritenuto una religione illecita in tutto l'impero romano. Le persecuzioni contro i cristiani si succedettero a più riprese con inaudita violenza. Molti morivano tra atroci tormenti per non rinnegare la loro fede. Nonostante tutto la chiesa continuava a crescere e a fortificarsi. A causa delle persecuzioni i cristiani si radunavano nelle case private per la celebrazione del culto. In queste case venivano utilizzati come altari quei mobili, spesso in legno, che più si adattavano all'uso. Mense, cofani, cassoni. Quando ne avevano la possibilità tra una persecuzione e l'altra, i cristiani celebravano la Santa Messa nelle catacombe per onorare i resti dei martiri. La parola resti, in latino, si traduce reliquie. Le catacombe non erano nascondigli, come alcuni erroneamente pensano, ma semplicemente cimiteri, cimiteri sotterranei. Nel 270 il Papa Felice emise un ordinamento per favorire la celebrazione della Santa Messa proprio sulle tombe dei martiri, così che i sarcofagi vennero utilizzati come altari. Da qui nasce quel connubio tra altare e reliquie, che è costante in tutta la storia della Chiesa fino ai nostri giorni. Ogni altare possiede delle reliquie. In un secondo tempo, però sempre prima del 313, vennero costruite appositamente delle case, oppure ristrutturate, per diventare luogo di culto cristiano, con tanto di battistero interno, aula per il culto e altri ambienti per la catechesi. Venivano chiamate Domus Ecclesiae, cioè Casa della Chiesa, dell'Assemblea, della Comunità, da cui derivò il termine Chiesa per indicare l'edificio di culto. La Domus Ecclesiae era un edificio privato, non aveva nessun segno di riconoscimento all'esterno, per cui si confondeva con gli altri edifici. In questo periodo i cristiani prendono consapevolezza di cosa occorrerebbe per un edificio di culto ideale. Nella Domus Ecclesiae, gli altari cominciarono ad essere costruiti in pietra, mantenendo però la forma consueta di mense, cofani e cassoni. Arriviamo dunque al febbraio del 313, quando Costantino, l'imperatore, emise l'editto di Milano, concedendo ai cristiani la libertà di culto e permettendo loro la costruzione di edifici pubblici dedicati precisamente al culto cristiano. Nel frattempo i cristiani erano aumentati di numero e le Domus Ecclesiae non erano più sufficienti. Vengono così costruite le prime grandi chiese sul modello della Basilica Romana. La Basilica era un edificio destinato ad attività pubbliche, commerciali, amministrative, giudiziarie, rappresentative. Erano a pianta rettangolare, suddivise in tre o cinque navate, delimitate da colonne. E avevano anche un abside. Tutti elementi che si manterranno costanti anche nell'architettura cristiana per secoli, con i dovuti adattamenti. Ed ecco una tipologia di altare, quella a mensa. In realtà non è altro che un tavolino realizzato in pietra. È l'altare della Basilica di Santa Maria delle Grazie a grado e risale al VI secolo. Un'altra tipologia è l'altare a cofano o cassone. Questo altare si trova nel Museo di Cividale del Friuli ed è l'altare del Duca Longobardo, Rachis, Duca del Friuli, risalente all'VIII secolo. Questo altare invece mette insieme la tipologia a mensa con quella a cofano. Ed è l'altare di San Vitale a Ravenna, risalente al VI secolo. Questo altare a cassone o a cofano è l'altare della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, risalente al IX secolo, molto importante, perché è realizzato in legno coperto con foglia d'oro e riporta nelle formelle la storia di Cristo, di Sant'Ambrogio e altre decorazioni. Questo altare viene chiamato l'altare d'oro. Poi altra tipologia è quella dell'altare a blocco in muratura. È dell'altare degli Apostoli, cosiddetto degli Apostoli, che è custodito nella Santa Casa di Loreto, all'interno dell'altare moderno e illuminato. È realizzato quindi in muratura. Sono mattoni che formano un blocco quasi a forma di cubo. Rissale a un periodo che va dal II al IV secolo, veramente uno dei più antichi altari che possiamo conoscere. Ed è chiamato altare degli Apostoli non tanto perché vi abbiano celebrato gli Apostoli, quanto perché è molto vicino e come datazione all'epoca degli Apostoli. Sicuramente i sacerdoti della seconda o terza generazione cristiana vi hanno celebrato. Infine, un'altra tipologia è l'altare sarcofago, in cui viene utilizzato un sarcofago, la tomba cioè di un martire o di un santo, come altare. E questo sarcofago altare è presente nella chiesa della Santissima Annunziata a Pestum, risale al V secolo. Infine, questa illustrazione ci mostra come, man mano che ci avviciniamo al X secolo, e cioè nell'anno 1000, è sempre più presente questa struttura che circonda e sormonta l'altare, struttura baldacchino che viene chiamata anche ciborio e che avrà successo anche nelle epoche successive, cioè verrà ripreso più volte anche nel Rinascimento e anche dopo. Sicuramente voi conoscete la più famosa è quella di San Pietro a Roma, appunto, con le colonne tortili. Questo ciborio risale all'epoca ottoniana, cioè in un periodo dal IX al X secolo. e con questo abbiamo terminato l'epoca del primo millennio. Continueremo col secondo millennio in un prossimo video. Sialo dato a Gesù Cristo. In nomine Patris, e Fili, e Spiritus Santi.